Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincontrerà il suo guai, ognuno con il suo viaggio, ognuno diverso. e ognuno è fuoco perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di figli. Proprio all'interno della manifestazione, allora abbiamo un'esplorenza di gruppo, con chi sto parlando. Il cantante è un po' costi, Paolo di Siccola. Quindi tu sei il cantante, ma che genere fa questa sera? Cosa ci fai a ascoltare? Allora, riprovo almeno un po' di cover, i classici Roxy 70, in più i due nostri grandi, i due free album, la mia è stata fatta per la realità, e quello che è uscito per farlo. Quindi questo è quello che accadrà... Non si va, forse non ci incontreremo mai, ognuno ricorderebbe il suo viaggio. Ognuno vita spericolata, ogni una vita come quelle di figli. Ognuno vita, Ognuno vita, molto bravo. Ecco, la signora, la parte è Francesca. Buona presenza, la parte è di spartare, eccolo qui. Lo senti, un brazo. Complimenti. Un bravo. Ecco, il Camario senza macchina è perso. Aldo, non ti nascondere, esci fuori. La Presidente, l'Asia, la prima donna, Francesca. Ciao, ciao. Io vorrei far amicinare qui Mugiano. Sì, sì, no, no. Vieni Mugiano. Un applauso a Vittorio Conti. Un applauso a Vittorio Conti. Un applauso a Vittorio Conti. Grazie per la visione